Matteo, siamo con Matteo De Angeli del Football 8 Matteo, una partita bellissima per chi l'ha vista da fuori per voi è stata una vera battaglia raccontaci le emozioni che hai vissuto in campo Beh, emozioni per me tante comunque io sono della Lazio tanto tanto ho giocato con loro più di metà della scorsa stagione quindi per me era importantissimo personalmente poi di squadra ancora di più ci giocavamo i playoff la partita tosta loro comunque quando si presentano al completo una bellissima squadra, abbiamo visto pure con la Venere le ultime partite hanno alzato molto il livello del gioco quindi è stata una partita tirata all'ultimo minuto giusto l'Ix alla fine Senti, forse c'è stato un po' poco equilibrio forse da parte vostra siete passati in vantaggio a un certo punto della partita potete forse gestire meglio ma invece di magari cercare sempre la profondità andare sempre verso la parte avversaria Sì, purtroppo la Stella Azzurra è un campo che non ti aiuta tanto a aggiustare il gioco perché è piccolo, appena c'è lo spazio ti vieni in automatico a buttarti dentro è difficile anche far girare il pallone quindi non devo rimproverare niente ai ragazzi abbiamo fatto comunque una grossa partita rischiando anche di vincere la fine all'ultima quindi bravi noi adesso andiamo a vedere che fa la Roma Infatti proprio qui vuole arrivare in chiave classifica comunque tutto rimane aperto per l'ultima giornata cosa vi aspettate dagli incontri che dovrà sostenere la Roma che affronterà la selezione e poi la prossima settimana cosa vi aspetti della partita vostra contro gli Ammers? Non dimenticherei nemmeno Ragnatela che comunque gioca con Pizza Boom quindi anche loro stanno a 35 siamo tutti molto vicini Dalla migliorata non mi aspetto una grande partita perché loro si giocano il play-out e secondo me sono la squadra più in forma in questo momento e dalla partita nostra la prossima settimana gli Ammers purtroppo credo siano spacciati in questo momento hanno più dei 10 punti quindi dovrebbe essere una partita che per loro non ha significato vediamo un attimo vedremo la settimana prossima intanto vediamo i risultati di questa settimana Senti poi l'ultima domanda te la faccio il tuo compagno di squadra Michelangelo Liberti ha fatto due grandi gol ha dimostrato insomma di essere un giocatore che può stare diciamo vicino ai grandi bomber della Lega se vuoi dirci quello che ne pensi tu del tuo compagno Io te lo dico te lo ripeto l'ho fatto anche l'altra volta secondo me Michelangelo tecnicamente e fisicamente è l'attaccante più forte della Lega soltanto che ha 19 anni e deve crescere soprattutto per il gioco per la squadra quindi quando riuscirà a fare anche il gioco della squadra poi fa dei gol che parla con solo insomma il secondo gol è una magia quindi gli faccio i complimenti però deve crescere ti ringrazio Ciao Gieti